Autunno è tempo di premi e riconoscimenti per la ristorazione italiana. Celebrazioni che nelle Marche registrano conferme ma non grandi novità. Secondo la guida Michelin, autentica Bibbia dell'alta cucina, questo 2020 non ha prodotto nuove stelle in regione al di là delle eccellenze già note che incoronano Senigallia, capitale marchigiana del gusto più raffinato. Arte gastronomica che si eleva ai massimi livelli nelle tre stelle del ristorante Uliassi che si affaccia sul mare senigallese al pari della Madonnina del pescatore di Moreno Cedroni, altra eccellenza premiata da due stelle Michelin. Riconfermata la stella anche per il ristorante Andreina di Enrico Recanati a Loreto, così come Pesaro luccica nella stella del ristorante Nostrano di Stefano Ciotti a due passi dal simbolo cittadino della palla di pomodoro. Quattro stelle Michelin marchigiane in tutto e si prova a scorgere la quinta. E chissà che non tocchi prima o poi anche al ristorante pesarese lo scudiero dello chef Daniele Patti, che in questo autunno è stato gratificato dal prestigioso riconoscimento delle due forchette del Gambero Rosso. Significa un riconoscimento fondamentale, un fondamentale per il proseguo, per il futuro, in questo momento di incertezza noi garantiamo ancora la qualità e da sempre continueremo a garantirla. Un riconoscimento che abbiamo già da due anni, che ci paragona con i più grandi ristoranti marchigiani e italiani. Quindi un riconoscimento importantissimo che si allinea con quello della Guida Espresso, dei due cappelli ricevuti l'anno passato. È un riconoscimento che si raggiunge con una qualità che non è mai una cosa scontata, ma una cosa che va sia confermata e sulla quale bisogna lavorare, immagino, anche con sperimentazione e innovazioni. Sì, la qualità è fondamentale per qualsiasi mestiere, per qualsiasi tipologia di lavoro. Noi da sempre la utilizziamo, da sempre ci sperimentiamo a migliorarla e continuiamo, facciamo sempre ricerca per aumentare la qualità. Nella nostra cucina vogliamo trasmettere la nostra filosofia culinaria. Ci sono stati anche riconoscimenti delle stelle Michelin, che rappresentano una ristrettissima cerchia per le marche. Non sappiamo se nello scudiero c'è anche questa aspirazione e nel caso cosa manca per arrivarci. Cosa manca non lo so, se no l'avremmo già fatto. Come tutti i grandi chef, come tutti i quanti di chef, giocare il mondiale, giocare quel campionato sarebbe bellissimo. Noi ci stiamo provando con umiltà, stiamo provando soprattutto a far stare bene i nostri clienti, a lavorare bene e a fare un buon lavoro.